Benvenuto! Questa è una sessione di respirazione guidata. Iniziamo a rilassarci profondamente. Puoi stenderti o rimanere seduto. Scegli la posizione che trovi più comoda e rilassati. Siamo pronti? Cominciamo! Round numero 1 Inspira Espira Inspira Espira Segui il movimento del respiro Dentro Fuori Dentro Fuori Dentro Fuori Dentro Fuori Dentro la pancia, poi nel petto e rilascia. Come un'onda Prendi il respiro circolare Inspira profondamente e rilascia Continua così Nessuna pausa tra l'ispirazione e l'espirazione Ancora 10 Inspira profondamente e rilascia Ancora 10 Ancora 5 Dai tutto quello che hai L'ultimo Inspira profondamente Ed espira Da questo momento 30 secondi di apnea Rimani nel momento presente Rimani nel momento presente Lascia che il corpo faccia ciò che è capace di fare Ascolta il battito del tuo cuore Rallentalo E rimani in questo momento Ora un respiro di recupero In 5 4 3 2 1 Inspira profondamente E trattieni il respiro per 15 secondi Espira in 5 4 3 2 1 Rilascia Round numero 2 Inspira Espira Inspira Espira Dentro Fuori Dentro Fuori Dentro Fuori Dentro la pancia Poi nel petto E rilascia Come un'onda Rendi il respiro circolare Inspira profondamente E rilascia Continua così Nessuna pausa tra l'inspirazione e l'espirazione Ancora 10 Inspira profondamente E rilascia Respiri profondi E circolai Ancora 5 Dai tutto quello che hai L'ultimo respiro L'ultimo respiro Inspira profondamente Ed espira Stop Da questo momento Un minuto di apnea Ascoltati Diventa consapevole del tuo corpo Se senti le mani O i piedi formicolare O la temperatura del tuo corpo cambiare Non ti preoccupare Va tutto bene Stai andando alla grande Se hai bisogno di respirare Prima del segnale Fallo senza problema Dai Ci siamo quasi Vuoi prolungare la tua apnea? Metti in pausa il video E riprendi quando senti il bisogno di respirare Quando ne senti il bisogno Inspira profondamente E trattieni il respiro Per 15 secondi Espira in 5 4 3 2 1 Rilascia Round numero 3 Rientriamo nel ritmo Inspira Espira Inspira Espira Dentro Fuori Dentro Fuori Dentro la pancia Poi nel petto E rilascia E rilascia Come un'onda Rendi il respiro circolare Inspira profondamente E rilascia Continua così Nessuna pausa tra l'ispirazione e l'espirazione Ancora 10 Inspira profondamente Inspira profondamente E rilascia Respira profondi e circolari Ancora 5 Dai tutto quello che hai L'ultimo respiro Inspira profondamente Ed espira Stop Da questo momento Un minuto e mezzo di apnea Ascolta il tuo corpo Il sangue che ti scorre nelle vene Il battito del tuo cuore E rilascia Sono rimasti 30 secondi Sono rimasti 30 secondi Dai ci siamo quasi Vuoi prolungare la tua apnea Metti in pausa il video E riprendi quando senti il bisogno di respirare Inspira e trattieni per 15 secondi Inspira e trattieni per 15 secondi Inspira e trattieni per 15 secondi Inspira in 5 4 3 2 1 rilascia lascia che il tuo respiro ritorni al suo ritmo naturale mentre concludi questa sessione lentamente inizia a muovere il corpo poco alla volta comincia dalle dita delle mani e dei piedi prenditi ancora del tempo per normalizzare il tuo respiro grazie per il tuo tempo ti auguro una buona giornata tanto amore e tanta forza